Carissimi amici incominciamo queste piccole riprese facendovi vedere questo cavallo che sta mangiando ebbene siamo al mio paese natale il paese di Badia Calavena e oggi in questa magnifica giornata di sole vi faccio vedere un po' il paesaggio di tutta questa zona in alto addirittura sulle cime più alte delle montagne c'è anche un po' di neve ecco ci spostiamo da questa parte vediamo un sole che splende ed ecco il paese di Badia Calavena in alto c'è il monte di San Piero con la chiesa il campanile e qui ecco siamo nella zona chiamata dei Masi una specie di piccolo altopiano pianeggiante circondato da questi monti e da questi boschi ancora non si vede il verde delle piante perché siamo agli ultimi sgoccioli ormai dell'inverno e si sente già odore di primavera ed ecco vediamo vediamo qui la cosiddetta zona industriale perché c'è in particolare questa questa fabbrica che è l'ex acquarama che ha dato lavoro nel passato negli anni 70 80 a tantissime persone del paese e anche dei paesi vicini ed ecco da qui si può vedere proprio la parte centrale di Badia con la chiesa il grande campanile e in alto sempre la chiesa di San Pietro qui siamo ancora nella nella zona dei Masi e pensate che qui non c'era nessuna casa nessuna abitazione fino a alcuni decenni fa poi è stato costruito tutta questa zona è diventato un vero quartiere un quartiere nuovo con queste case molto accoglienti e poi ci spostiamo per farvi vedere di nuovo la zona industriale viale dell'industria e poi puntiamo ancora le nostre riprese sulla sul centro del paese ma soprattutto ecco volevo farvi